Benvenuti al mio canale, sono Frank Mazzoni, in compagnia di 8 squadre qui con noi, abbiamo tutti partecipati, abbiamo più o meno sistemato padre e figlio, amico grande e amico piccolo, padre e figlio, padre e figlio, qualche amico qua e là, comunque siamo riusciti con 8 squadre, le squadre in questione sono Brasile, Colombia, Groenlandia, Germania, Giamaica, Italia, Argentina e San Marino. Cominciamo con la prima, Brasile-Colombia, cominciamo. Ok ci siamo, primo tiro, Ale, primo tiro, chiedi, partire, Brasile-Colombia, Colombia, vai, Colombia, ecco. A Colombia, arrivare a Colombia, ecco, poca, pare proprio un parlo e scoparlo, guarda. Allora, voi due, al giro. No, 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 c'è la liglia. No, 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 vedi questo parlo? io ho vinto il copro sei parte Brasile gol l'unica la colombia squadra da tre un palle due piccolini che volevano giocare quindi abbiamo fatto un tiro a testa ok colombia a tiro non era male non era male quasi aspetta amore giamaica meglio della nostra se ha fatto gol cosimo ha già perso l'hanno già perso mi voglio farvi fare l'uomo e se Brasile segna ora è giusto pura è avvinto il Brasile non è che mi voglio fare l'uomo che bello che fortuna tu fatti tu fatti poi c'è la calcia è? va bene mi fatti era di come c'era no mio padre era di come c'era il calcetto no non è una buona salutiamo i ragazzi della colombia come ti chiami? Duccio Duccio e te come ti chiami? Così fratelli salutiamo Duccio e Così bravissima e Brasile Noellandia Germania Noellandia Germania spero che siamo contro che vinto Germania Germania Basta guardiamolo con l'alto con l'alto quello più bello quello più piccolo già già una non lo facciamo non lo facciamo non lo facciamo vuoi arrivare? questo è un battito ehi, giovane! è il giuettino lei è il giuettino è il giuettino a dove vieni giovane? a dove vieni guarda uno guarda colusto se farmi quel non importa non le ha messo male no andrea puoi partecipare? ormai abbiamo finito le squadre sei arrivato in ritardo ancora? stai a basso il suo volume ehi, giro della Groenlandia al fitto ehi Peppino ci arriva insegna via, avete visto? sì Ale, appena finito venite qui stavolta ehi, guarda tutto la mente ehi, lasciatemi che faccio soltanto stai a basso il gioco ok, Groenlandia, sei lì al tiro ehi, non so guarda, guarda che schifo, guarda non è che deve stare buone il palatore di Peppi la parata della vittoria 3, 2, 1 oh Dio oh Dio oh Dio grazie che fila va bene va bene Alessandro vieni qua venite a salutare grazie e signori abbiamo qui la Groenlandia il nostro Mattia ciao e il nostro vieni qua il timidone e il nostro Alessandrone ecco qui invece hanno vinto la Germania il nostro Elia e il nostro Pepposo dite quello che volete è stata molto dura però più anni di esperienza cos'è il falso? Giammaica Giammaica vai Duccio vai Giammaica contro si ok Ok, cominciamo Giammaica Italia, un palo, un palo, un palo, al tiro Sascino, un palo, ד 7585, from the trail Sascino, Giaglia, palo, attenzione un palo anche di lì, ciao ragazzi, ogni tanto giro, abbiamo qui con noi le vecchie cameraman, viola e persa, ma se le chiamo devi girarti in qua Magari non vogliono, un saluto, le nostre veline, siamo pronti, bello bello piazzato, ok stiamo più avanti Sasha, guarda la linea, più avanti, più avanti, ancora ancora ancora, ecco lì va a mezzo, andiamo, Sasha a tiro, Lucio la para, la blocca, la blocca, la blocca, è in vantaggio la giamaica di una rete, ma mica viene una cosa, Germania contro chi è? Germania contro giusto, siamo, giamaica, fuori, 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 ok, Sasha pronto, Lucio ci arriva, Lucio ci arriva, madonna e madonna e madonna, bello Sasha per tiro, ancora incerta questa partita, fino all'ultimo, un gol di vantaggio la giamaica, attenzione, ok, piazzato, va bene, allora, se Duccio la para, ha vinto, si può sostanziare gli ruoli, e ci vuole la parata, si vuole la parata di Duccio per chiudere, tipo Pepe tira, poi dopo, va bene, era nella buca ripagliare e ribattere posso se ora facesse gol e dopo passano non è regolare va bene, eliminate l'Italia Jamaica, passa Sasha, vieni a fare un saluto vieni data male all'ultimo era un po' nel buco un saluto agli amici di Youtube ciao, sono Sasha ciao sono Sasha un saluto al mio papà Boreano un saluto al mio papà Boreano bravo vediamo la prossima Sasha Argentina San Marino cosa c'è? non so, ti ha preso ha preso dietro ha preso Andrea come? no, no, no ti facciamo, ti facciamo ha preso Andrea ha preso Andrea ha preso Andrea ha preso Andrea lo farei a saluto ci facciamo lo stesso però, oh ti sai che c'era eh però c'era l'Argentina San Marino vai Andrea buono questo è il San Marino Edo ok è il San Marino è il San Marino è il San Marino ovviamente se puoi tirare quattro vuoi tanto tu è già più grande aspetta no, no 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 oddio tra poco perché sono l'ogliore ahahah voglio avere un spazio ma oddio oddio se non è una messa così la schia no no è proprio mirata guarda il piano è il piano è il piano vedo il piano no no cazzo mi ammazzo in polma vai vai sceglie sceglie si aspetta sceglie 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 dà il buchino se vuoi sceglie si sceglie 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 bravo Andre sceglie 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 non è ancora sceglie 2 a 2 giusto nessun errore 2 a 2 dovete sperare che sbagliarete quando state a tirare fai o un paratone di Andrea o piano ma ribatte buone bene va bene 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 va bene va bene bene tre pari ragazzi non se ne esce ricordiamo il campione della scorsa edizione grande campione della scorsa edizione se l'ha detto Kinko questa numero uno ragazzi Argentina, noi San Marino addio palo 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 cosimo cosimo vieni lì metta sembra al set entrata no? entrata entrata ok la rivedremo con il replay ma se non è entrata ok San Marino se sbagli se puoi basta che segna Alessio dopo e sti ripassando San Marino San Marino vieni qui prima di tirare di qualcosa in giro ok fai una terminata la Cristiano però chi so ok la batte la Cristiano attenzione Cristiano Ronaldo Cristiano non ne vuole sapere vuole il gol palo 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 c'è stato qua veloce chi è passato chi è passato chi è passato uno, due, due pepi germani vedete qua giamaica dov'è? va beh via chiamala giamaica giamaica uno, due, tre, quattro allora signori e signori prossime sfide della semifinale avremo Brasile due ragazzini non crede? si Andrea contro la Germania Percote e Silas mentre dall'altra parte giamaica Duccio e e Tommaso contro l'Argentina di Alessio e Zucigliola tre come chiami? Andrea andiamo pronti andiamo a Brasile Germano Siamo? ok Brasile Germania pronti e via al tiro un po' un po' una dentro un po' non c'è? ah ah non c'è un po' è vuole scambiare Si vuole di Peppi, da replay questo, questo è da replay, bello. Se si fosse visto. Ci siete davanti? No, c'è basta, mi metti qua, vai. Mania, andate là, andate là. Mettini là, di là che ci vedete. Non è mica di far lavoro però con il pallone. No, no. No. Magari. Eh? Fanno quella partita, bella farla con il pallone. Ciò fa forte. Controllate voi la linea, se va bene. Il Brasile al tiro. Paratone, madonna che parata. Grande parata. Ammattate. Che cura per me. Bravo, bravo. Bravo, bello. Oh, c'hai un bel portiere, eh? Sì, ti va bene anche te. Sì, la sott terra. Sette l'esterno. Sì, la sott terra. Germania, secondo errore. Se il Brasile segna, si deve fare. Vediamo il Brasile cosa conviene. Ora abbiamo qui parenti della... Di sopra, sull'ioe. Insieme sono venuti a trovarci la nostra amica Gloria, quella sua mammina, Daniela. Pronti? Brasileano, pronto? Vediamo. Ecco un apparatore di te. Guarda che tenta di infortunarlo, guarda. Tenta di infortunarlo. Sotto, questo, grande barraca. Tenta di infortuni. Si, si, si. C'è un po' di ago. Sotto. Tocco, c'è un po' di ago. No, no. E noi abbiamo qui. E' quella della... Lo sai? De l'aima? No, alto come quella ed è un long. Dopo le fattiamo... Appena finiamo le fattiamo. Tutte le fattino? No. Le fattano. Eh, c'è la fattano. Germania 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 La notaccia faratone 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 noi facciamo un replay almeno preparato abbiamo vinto quanti gol matano? allora se e la fai un collo avete vinto se non lo fai faratone devi segnalarlo attenzione e via guarda 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 controlla la linea mi sembra di avanti guarda pepi se pari vediamo se pepi riuscirà a arrivare in finale ora ora sei indietro puoi portarla più avanti io ve lo dico come ti pare fino alla linea andrea mettiamo il pallone assolutamente e tira non è finita non è finita non è finita andiamo a ultranza poteva essere finita qui ma la parata più importante e ora inizia a sentirsi il tremolio come è no ci arrivavo tranquillo germania attenzione gol del brasile e riporta in finale il gol della finale no c'è si ti fanno ancora lo no siamo tra stare testo ci vediamo oh tebersi ci sta ascoltando il pessimo siamo pronti brasile al tiro tiro della finale manda il finale vediamo paratone ancora andiamo avanti all'istranzo ancora faccio gol? dai gol dipende di cosa fanno loro qui c'è il face mark aspetta un attimo aspetta Germania vuoi andare anche avanti stai al pari del 2 vuole vuoi andare né troppo avanti né troppo stessi vediamo la Germania se fa una rete vediamo dopo che c'è un bino a Brasile Brasile a tiro Brasile se segna vinto paratone di Peppi ancora qui è lungo Peppi ma tu hai detto che fai gli attaccanti Germania sveglia Germania a tiro buone guarda una sbagliata lunga qui una sbagliata dopo l'altro perché manca del cuore manca del cuore si segna il Brasile e passa è pure bravo si segna il Brasile e ha vinto no 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 non ci ha messo male la palla paratone ancora ma va che sei storto non puoi farlo te andiamo? guarda te chi è questo ma bello Germania c'è davanti lui Andrea levati Andrea ma Andrea levati Andrea hai preso il cuore ma lo colpire lì c'è davanti lui ok Brasile a tiro separa ai finiti Peppi separi ai finiti ma dattelo finito si deve farlo durare la parata della finale vediamo se c'è il pareggio del Brasile la parata della Germania li porta in finale paratone 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 bellissimo bellissimo paratone ok Germania in finale Germania qua Asile buon anno se sono sedi sotto te ok sono pari giamai cartettina ma pronti? è un bambino piccolino Gras pronto? piccolino anche lui parata sì sì parata 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 guardatelo voi non c'è no 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 go è più forte è più forte è più forte ma sono c'è il padre al momento per chi finisce Questa è la stessa edizione No, la quinta Boh, non lo so io Aspetta, aspetta Pronto? No, Mariano Che fortiero Oh, sì Ma tu ti metti sulle mie partite Un rallentatore non gli farà No, ma hai rischiato Lui e il tuo figlio inizia a tirare in forno Oh, Elia Siamo Andrea, pronto? Sì, la mia perà Se fa questo ha vinto Se fa questo e la farà ha vinto Sì, no Eh, sì Se fa questo e la farà ha vinto Paratone Se la farà abbiamo vinto No Se la farà capustiamo Ora se Andrea fa gol si fa Se Andrea sbaglia No, no Se andrà sbaglia rimangeremo Vai là e vogliate Se andrà sbaglia rimangeremo Non c'è l'altro Non c'è l'altro Va, va, va Ha tattato il bar Ha funzionato Ha funzionato Ha funzionato Ha funzionato Eh Ok Ok Parata, parata, parata Si va avanti, si va avanti Vuole il gol dell'Argentina Non è finito, eh Sì, va Sbaglia e se la vedi cosa fanno loro Sì Siamo pronti? Paratone di Duccio Vediamo cosa fanno loro Dottore, non è ancora finito Non è piaciato Non c'è l'altro Non c'è l'altro Non c'è l'altro Non c'è l'altro Perché? Goal Finisce qua L'Argentina Eliminata Passa la Giamaica Ci siamo signor e signori Siamo qua Siamo pronti per una finale Abbiamo qui con noi Un giamaicano Un po' bianchi Tu sei arrivato in finale Sì Tu come ti chiami? Tommaso Grandi Tom Sei in finale La prima volta che puoi in torneo Questo è già in finale Sì Perché squadra abbiamo detto Giamaica è in finale Ok Da quest'altra parte abbiamo Pepi E il pazzo del 2002 Il PSN della PlayStation 4 E il figliolo del mio capo Che gli vogliono bene E sto ragazzotto La Torino di Bevole Il nostro amico Sì L'ha già rotto Ma ti rendi conto Che stai usando Un pennarello Come un uomo? Guardate questo Simpatico Stai quando la signora Siamo pronti per la finale Andiamo Germania Giovanni Andiamo a combattere C'è già fatto Siamo pronti Germania e Giamaica Ah intanto Per chi pensasse Che io sono il bagnino decenerato Qui abbiamo il nostro bagnino Mariano è la sua postazione Non sono io In questo momento Guardare il mare Che qualcuno commenta Io invece di fare internet Perché non guardo In mare Primo tiro Giamaica Buca subito al portiere Immediatamente Fa capire con chi andrà Tutto È fuori a te Gol E cerca di non buttare l'alba Forza Lucio Forza Lucio Ah no Forza Lucia Il mio grande Lucia Forza Lucia Grande Lucia No Non lo so All'indentro Il mio signore Che voglio un bello dell'aria Il mio amico Per sempre Viva Non mi aspetta Quindi se ne devo Non devo comprendere Lo meglio Vai Vai Giamaica Giamaica Gol Gol Il mio amico Di YouTube Ricordate lui Che fa tutte le modalità Caccia di rigore Due coso due Tutto Masse Aspettiamo Per il fondo Sì va bene Pronti Vai Germani Gol Ancora due a due Non se ne esce Due a due Sei Non se ne esce Vai Ok Ok ragazzi Ovviamente abbiamo cambiato telefono Lady Chris come sempre ha un problema sul telefono Io mi occuperò quest'anno di portare una telefono Paratone di Duccio Paratone di Duccio Paratone Ancora due pari Siamo al quarto tiro Paratone di Duccio Paratone di Duccio Paratone di Duccio Un po' Duccio Paratonezó Paratonezó ok? Germania a tiro guarda su guarda su guarda su la Germania segna a noi se fai gola vedetevi vediamo ragazzi ultimo tiro il tedesco al tiro aspetta 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 da Milano nostro amico KIKKO da Milano non so chi lo conosce è quello che ruba il game stick ruba il vince 30 euro le porto quante le volete tipa 18 tipa 18 tutti quelli che escono iniziamo ragazzi allora questo è il gioco dell'estate ha fatto gol si se tiro Peppi e dopo Peppi ancora ha fatto gol e vabbè io farei gol e siamo sempre pari perfetto le fegna è lì e loro non la parano se sbaglia lo fanno due stiamo da due andate là e se tiro i gol e non c'è dove lli vado bisogna tornare dove è parare guarda non c'è stiamo tira il tiro poi e il tiro mai vai tira vai piccolo su due vai piccolo su due via di piccolo due di là di là rotti rotti via la quale la terrà una torta via pali Grazie. Sbaglio e perso. Sbaglio e perso. Signori, Duccio, vieni qua. Duccio, eh. Gol per il pareggio, eh. Se sbaglio e perso, ma se fai il gol, è pareggio. Dai. Dai Duccio. Signori siamo pronti? Gol! Gol! E ti va al pareggio. Andrea. Claudio. Wow! A oltranza stai. Ora tirano loro e poi tirate voi. Se mi sbaglio, non hai la parte. Ti vuole la mamma mia. Gol di alla Ciacmania. Adesso dico Cosimo. Vieni con Andrea, vieni con Andrea. Grande Andrea. Questa è un momento. Andre! Ah! 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 Gol! Non c'è, non c'è. Sì, non c'è. E questo è uno parico. Vediamo il Brasile e se la para. Questa Germania è forte. Questa è forza. Dai, d'altro il via. No, fuori. Un tiro, uno paro. Non lo volete però, a te lo dite. Gol a gol! Si va avanti. Vuole una parata, un tiro fuori. Si, per via e basta. La ruga bandiera. La ruga bandiera. La ruga bandiera. Allora, aspetta. Gira, gira. Lore, questa è per te. Vieni a vedere ora. Biondo! Biondo! Patello, sposta. Paratone! Paratone! Paratone, paratone, attenzione. Se Duccio segna, hanno vinto. Se Duccio segna, hanno vinto. Pip, pip! Pip, pip! Oh silenzio. Ma metto clu, eh. Solo, se, ma metto solenne. Silenzio. Bu, ci vuole dire qualcosa in camera? Bravo, metto al pallone, fatti. Vediamo alcun sacco. Il grande Duccio, il grande Duccio signori e signori gli dà la prima posizione, grande Duccio e la Giamaica va a vincere questa partita, andiamo a eliminare la Germani, ok, ora andiamo a vedere se fanno un po' di spirito sportivo, eccola la, spirito sportivo Elia, Duccio, ti è il tuo amico, aspettiamo che posso, guarda dove è andato il cammino, ora guarda lo giuma di là, dopo lo giuma faccio le domande per il cammino, io gli ho detto appena finisce la partita, non intendo lui, eh si levi questi turisti, sempre in mezzo, Michelino, ecco di là, anche lui è un giocatore di calcio, è il nostro Suarez, noi lo chiamiamo Suarez, aspettiamo il ritardato di Pepito, lo vedi, guardatelo, guardato in seguito dal suo amico Chico, vediamo, è un momento buono, ok, in un momento solenne della partita, facciamo la stretta di mano allora vediamo la squadra è bello perché si vede si scambiano anche le mani guardate che bel segno di sportività questa è sportività ragazzi questi sono ragazzi che io voglio così sportivi sportivi che si divertono vedete lo scambio di soldi non c'è litigio fra loro si vogliono bene mai litigieranno si vogliono proprio ma va non c'è litigio fra gli indoni non c'è litigio fra gli indoni vero